Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Sasso Feltrio, Pietrarubbia e Monte Grimano Terme. Sette comuni per 8.000 cittadini uniti da un territorio di 166 km2 che si mette in rete in PIL Montefeltro. PIL come acronimo di progetto integrato locale dal sottotitolo I percorsi all'origine dell'esperienza del Montefeltro. Un gioco di squadra che permette ad un'Unione che ha avuto una gestazione cominciata nel 2014 di raccogliere ora il seminato di fondi comunitari che rilancino il turismo dei sette comuni in un gioco d'insieme che rilanci al contempo lo sviluppo occupazionale. Il Montefeltro legato da sette progetti in sette comuni verrà in questo modo rappresentato nella maniera migliore perché credo che piccoli territori o meglio ampi geograficamente ma piccoli in termini di popolazione abbiano bisogno di sostegno di questo genere. Il PIL è un progetto partito nel 2014-2015, sono passati tanti anni ma il percorso oggi vede la luce in fondo al tunnel per cui i progetti verranno realizzati nei prossimi 6-8 mesi dai nostri comuni e quindi a partire dal 2023 avremo sicuramente la possibilità di offrire qualcosa in più ai turisti e a coloro che desidereranno venire nel Montefeltro per visitarci. Tutte le progettualità messe in campo sono state ideate per valorizzare proprio l'offerta turistica in termini di esperienza dal bike alle rocche al parco e quindi credo che veramente sia un passo in avanti per quello che è lo sviluppo anche di piccoli comuni nel prossimo futuro. PIL Montefeltro prevede un investimento di 520.000 euro di cui 450.000 ottenuti grazie al contributo del PSR Marche gestito da Gal Montefeltro. Fondi che permetteranno di completare nel 2023 interventi quali sistemazioni di aree verdi, percorsi fluviali, realizzazione di aree camper, riqualificazioni di beni culturali o di percorsi escursionistici. Grazie all'Unione siamo riusciti a intercettare un contributo non enorme ma che è stato strutturale per tutti nel senso che con questo aiuto che ogni comune ha avuto siamo riusciti ognuno di noi a portare a casa un risultato che altrimenti non l'avremmo fatto, cioè parto dal mio comune. Abbiamo sempre parlato di realizzare un'area camper e non abbiamo mai trovato il 100% dei soldi. Ora una parte l'abbiamo messo noi, una buona parte l'ha messo il progetto, così siamo riusciti a portare a casa il risultato. Se questo diventa sistemico, se questo diventa il modo di lavorare sul territorio, possiamo diventare veramente competitivi con una realtà molto più ampia che è quella fuori dai nostri territori ma possiamo essere veramente sul pezzo. È un'unione che va sulla specificità di territori limitrofi trascendendo i confini regionali di fatto recentemente modificati con il passaggio di Monte Copiolo e Sasso Feltrio dalle Marche all'Emilia Romagna, dalla provincia di Pesaro a quella di Rimini. Il progetto abbiamo portato a termine, era un progetto che era partito tutti assieme, riguardava il Monte Feltro, noi facciamo parte del Monte Feltro ed è questo il normale proseguimento di un'attività che avevamo iniziato già da 7-8 anni.